Nei giorni in cui il Consiglio regionale discute interrogazioni sulla conta dei danni dovuti al maltempo dello scorso 15 settembre, quello che ha colpito duramente le Marche con le sue vittime, ma con gravi conseguenze anche nell'area Umbra, tra Pietralunga, Gubbio, Scheggia, arrivano dal gruppo speleologico di Gualdo Tadino le immagini del disastro che quelle piogge hanno arrecato anche alla montagna gualdese. Siamo sul Monte Penna, sud del Serra Santa e quella fotografata è la strada che conduce al rifugio del Penna gestito dal gruppo speleo al ripetitore dei vigili del fuoco facente parte della rete di protezione civile all'area di Pascolo tra le più estese dell'Appennino. Ad oggi è impraticabile con qualsiasi mezzo a causa di una vasta frana che in alcuni tratti ha cancellato la strada e di profondi solchi scavati dalla pioggia con canyon di oltre 4 metri di profondità. Una strada al momento con nessun padre certo, non la rivendica il comune, non la comunanza agraria, strada di fatto vicinale a lotti di più privati che rischia per questa incertezza di restare fuori da qualsiasi tipo di progettazione e finanziamento per il suo ripristino. Ad oggi è impossibile sia rifornire il rifugio di acqua sia accedere al ripetitore dei vigili del fuoco. L'unica via alternativa era la mulattiera per la Valle del Fonno, ormai cancellata dall'alluvione del 2013 e ancora non ripristinata. La preoccupazione del gruppo speleo è forte perché il dilavamento di questo canalone non farà che portare a valle in aree antropizzate terra e detriti la cui quantità ad oggi non è stimabile. L'autunno-inverno, dicono, è appena alle porte e la situazione potrà solo peggiorare.